Onorevole D'Ambroso, vediamo un tema politico, la legge elettorale. Ci sarà battaglia in aula e già qualcuno comincia a parlare di un ricorso alla fiducia. La fiducia è ospicabile che non sia mai necessaria perché quell'aula è fatta proprio per il dibattito democratico. Siamo sempre fieri di riempirci la bocca con questo sostantivo democrazia. La democrazia è fatta proprio di dialogo parlamentare anche fortemente conflittuale laddove è necessario ma che mira a raggiungere un punto di equilibrio e quindi un compromesso. Con ricorso alla fiducia, quindi, zittire il tuo contraddittore non esprime quello che io ho sempre ospicato essere un metodo democratico. Certo è che per l'esito dell'ultima legislatura, dell'elezione dell'ultima legislatura, la composizione in aula e la possibilità che il regolamento dell'aula concede ancora oggi all'opposizione potrebbe far rischiare un sostanziale blocco del dinamismo abbastanza affrettato che l'attuale Presidente del Consiglio vorrebbe dare alle riforme. Io condivido allo stesso tempo questa necessità di cambiamento il più veloce possibile. cert'è che trovare il giusto punto di equilibrio anche in questo caso non sarà facile.